Musica Mi trovo alla Timpa con Mario Consoli degli Scout C'è anche dietro di me rappresentanza della 104 Orizzontale Onlus Qual è l'iniziativa Mario? Oggi siamo qui con la 104 Orizzontale Abbiamo organizzato insieme questa giornata, questa passeggiata Un modo per superare altre barriere architettoniche E permettere a chi è contatore di etnica o a disabilità di ogni tipo Sia motorie sia visive, di poter godere della bellezza della riserva della Timpa Oggi lo facciamo attraverso un percorso sensoriale Che attraverso il tatto gli odori farà scoprire le piante, le rocce La conformazione morfologica della nostra riserva E poi per la prima volta useremo una portantina, la Jolitte Che ci permetterà di portare un disabile in carrozzina sul sentiero E fargli ammirare la vegetazione, i panorami E quanto di bello nascondere questo loro percorso E qui cercano non tagliare sempre Anche la prima volta useremo un ecclipo Un'altra vita non tornava... E qui bella è stava